buongiorno signori e amici belli benvenuti in cucina con mao buongiorno a tutti ragazzi allora qui c'è il succo che va una bella salsa di pomodori qui cuoce e ricuocere adesso da questa parte mettiamo un po' d'olio a riscaldare facciamo dei carciofi foglia fondante ci mettiamo un bacchino di peppe poco poco peppe facciamo rosolare una cipolla ecco una bella cipolla ragazzi fiamme alta attenzione però è un voloso tagliamo la cipolla potile perà per attenzione Sì. Allora, facciamo risolvere la cipolla. Allora, buongiorno Fino, buongiorno Ignazio, benvenuti, oggi facciamo cose semplici semplici. Ho preso qui delle foglie di basilico, gli diamo una sciacquattina, via con le cipolle. Adesso prepariamo dei pomodorini, prima ci metto un bicchiere di vino bianco, non proprio un po' e facciamo rosolare bene. Semplice no? Buongiorno Luca, buongiorno a voi. Buongiorno a voi. We're gonna cook artichokes. And then a lovely fish soup alla Livornese. No 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 no. Ok, allora che faccio qui ragazzi? Io faccio così, il gambo lo lascio e taglio il carciofo così. facendo un po' di casotto, allora prendiamo le foglie esterne, lascio un pezzettino di gambo. ho già lavato i carciofi comunque sia, si, ecco qua e continuiamo. Per dire la prima cosa devo fare, adesso ho lasciato, poter portarlo, vi augurciare un po' di casor. два navi,hramia una器 oferta, rebozo l'opera, z St. Continuiamo a prendere i carciofi, ecco qua, giusto per la forma e il colore, vediamo chi mi saluta qua, it's breakfast or lunch, pino, questa è un po' di tutto, è mezza colazione, mezzo pranzo, ecco Luca che c'è master chef, Luca, Luca, andiamo, e dai, allora io continuo a tagliare i carciofi, così, attenzione, qualche foglia, questa è la tensione, così, un po' di gambetto via, ho messo in frigo nella parte sbagliata, qualche foglia è diventata al nero, e vabbè, allora, di nuovo qui, non so, i coltelli adatti ragazzi, non fa niente, giusto? Allora, andiamo avanti, ecco qua che belli che sono, non abbiamo il carciofi spinosi qui a Londra, cioè ci sono, ci sarebbero anche, ma bisogna andare a cercarli, purtroppo non è facile, ecco qua ragazzi, ci siamo quasi, poi con questo ci facciamo chissà che cosa, una bella scopa, facciamo, facciamo due belle tagliatelle, eh? Cosa ne dite? qua e poi c'è così, guardalo, guardalo, ecco qua ragazzi, hai da un po' di Allora, ci siamo? Ci siamo? Mettiamolo così la camera. Allora, occhio di cipolle, il vino sta assorbendo, avvapora e poi passiamo il carciofo. Ecco, adesso io ci aggiungo, abbiamo messo peppe, basilico, olio d'oliva, extravergine, possibilmente, adesso io faccio patate e carciofi, ragazzi, aspettiamo le mie patate qui, e l'inizio le già lavate, bruciate, e l'inizio a mettere in fondo, a pezzi grossi, eh, non troppo grossi, ma grossi, ok? Patate e carciofi, ragazzi, boh, così, vediamo come va, eh, semplice, ragazzi, semplice, molto semplice. E facciamo andare un paio di minuti. Questa è la ricetta, boh, è venuta così. Ecco, dovremmo eliminare la penuglia del carciofo, però, boh, potremmo tagliarli a metà. Ecco qua, ci vuole un po' di pazienza, eh. Adesso, non lo so, vediamo se ci riesco. Piano piano. Un po' di pazienza, eh. Un po pò spino. E non lo so, vediamo se ci riesco. Un po' di pazienza. Grazie. Ecco, rivisci al piano. Mi raccomando, giratevi tanto. Allora, ragazzi, non è facile. Continuiamo con la pittura. Qua. Aggiungiamo una scalata. Sì. All right, all right, all right. Anche lo so che parla inglese fino a, eh, fino a tanti finis. Diciamo anche in inglese. Per scusare un pochino, ma io non scusate. Ecco qua, ragazzi. E' una cottura abbastanza nervosa. Non è che volevo un coltellino troppiato, però servo uno, ma non lo trovo. Ecco qui. Continuiamo a scolare, ragazzi. E aggiungiamo un bicchiere d'arte. Non un bicchiere, più o più, un pochino. Ecco qua, un pochino d'acqua. E continuiamo a tagliare. E un po' una seccatura di pulire i carciofi. Però... molto buoni. Qui, non è un pochino. E ragazzi, artichocs e potato. Un po' di olivata, un po' di vino. Un po' di vino. Un po' di acqua, un po' di vino. Un po' di acqua, un po' di potato. E artichocs. Ecco qui. Un po' di vino. Noi dire. Qu소리를 ballare. Quasi dante. Lapsupiamo. Questi. Copri. Ok ragazzi, l'ultimo carciofo Ah ragazzi c'è un profumo qui, buongiorno Daniela, benvenuta Allora ragazzi, abbiamo fatto la nostra ricetta di carciofi e patate, adesso do una filettina qua, non finiamo mai, la ciocco, la ciocco, la ciocco, la ciocco, la ciocco, qui, veloci veloci ragazzi, allora, che vi devo dire, è domenica, ci vuole un bel bicchiere di vino rosso, cosa ne dite? Buongiorno Roby, benvenuto, cucina con Mau, Roby Roby, grandissimo amico di infanzia, persona splendida, splendida, ecco qua, adesso facciamo andare ragazzi, magari postiamo, postiamo fuoco più basso, lo mettiamo qua e passiamo ad altra storia adesso, mettiamo una bella pentola, ecco qua, una pentola, facciamo riscaldarla un po' e pensiamo alla prossima ricetta, ragazzi, io farei una bella zuppetta, good morning song, very welcome, this is my cooking corner, it's Mau here, very nice to see you here, right, so we cooked artichokes with the potatoes, onions, glass of wine, black pepper, pinch of salt, half glass of water, ok, so it's going slowly, I reduce the flame, I give a twist, stir it, every sometime, ok, and that's it, here we go, very gently now, ok, I'm going to cook some lovely fish-like soup, yeah, it's not really fish, but here we go, ok ragazzi, prendiamo i nostri calamari, adesso come la, ecco qua, appena asciutto e calda, la pentola aggiungiamo l'olio, da questa parte, bene, prendiamo un paio di calamari, ragazzi, si vede, non si vede, non lo so, possiamo spostare alle pentole però, fa così, ecco qua, facciamo così, aggiungiamo l'olio d'oliva, muoviamo la camera un po', ok, si vede meglio, ok, l'olio d'oliva, abbondanza, non abbiate paura, un paio di foglie alloro, così, un po' di peppe nero, ecco, e facciamo, tagliamo i nostri calamari, a listarelle, pezzettini piccolini, ecco qua, e li facciamo rosolare per bene, fiamma alta, per una, sette minuti, ragazzi, così, ok, we're gonna fry our squid, ok, guys, in the pot, eh, ragazzi, ah, è uno spasso qua, è uno spasso, è uno spasso, e qui va, No, keep stirring it, high flame, yeah, high flame, that's it, there we go. Little bit more. Little bit more. There we go. See? Okay. 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 Okay, guys. Now we put the white wine. Hello, Alessandra, welcome. We're going to make the calamari with alloro, pepe nero. And here we have the carcciofi with the potatoes. Here, we can add a little bit of water. We're going to add a little bit of water. Look here. We'll add a little bit. And we'll finish the cooking. We're going to add a little bit of water. facciamo cuocere ci vuole un po' di fiamma da questa parte facciamo evaporare il vino e poi aggiungiamo del pomodoro ci vuole un po' di tè un po' di fiamma un po' di fiamma un po' di fiamma Grazie a tutti. 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 Io aggiungo due tazze d'acqua. Grazie a tutti. Ok? Grazie a tutti. 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 Ecco qui, Grazie a tutti. 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 Buona domenica. Grazie a tutti. e a tutti. vi saluto. e a tutti. Buona giornata. 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Ecco qui qualche calamaro giusto per assaggiare ma bisogna farla riposare la zuppa Giusto un assaggino e vediamo un po' come è andata Se non è buona ve lo faccio sapere Ragazzi Questo è di buon aspiccio che il Cagliari batta la Roma stasera e sarà festa per tutta la Sardegna Buonissima raga Ne portiamo un pochino a Mourinho Basta che vinciamo Vediamo un po' i calamari Buonissimi raga Veramente buono Ma va bene così Buona giornata ragazzi Carciofili e assaggiamo dopo A tutti Che bontà raga che bontà Questa è roba buona Tutta salute Anti-Covid Ecco che c'è anche il peso di triglia Bel sapore Bell'appento che abbiamo fatto Assaggiamo le cozze Ah si Sono buone Vengono dalla Scozia Addirittura Nella Scozia Che spettacolo Buona domenica Allora Ora vi lascio ragazzi Dividete Condividete il video Mi raccomando Ciao da Mau Ciao Ciao